segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te contaci proprio così io sono ad arzis come vi dicevo in best arabia una delle parti più vicine all'europa e alla romania questi sono i detriti di questo silos e proprio mentre voi stavate parlando in studio sono arrivati hanno appoggiato qui il missile che di fatto ha distrutto e ve lo faccio vedere insieme a diamond sade che qui con me questo silos le immagini sono anche spaventose ma perché in realtà è tantissimo mais che si è riversato lo stanno cercando di togliere e mettere in altri silos per non sprecarne neanche un singolo chicco vedete arrivano con questo mezzo lo prendono con la pala e poi c'è un'altra parte gli altri operai che lavorano e che lavorano da questa parte di questo silos andato distrutto in un in un secondo di fatto un'economia che se ne va e ci si chiede come mai abbiano colpito questa zona dell'ucraina che di fatto è sempre stata tranquilla e dove addirittura si trasporta il grano il mais e i semi di girasole per proteggerli qui qui continua quella che è la devastazione e lì ci sono gli operai che tolgono i cancelli arrivano con le pale mettono questo mais all'interno delle proprie carrette perché dicono è un bene prezioso c'è la guerra non ci possiamo permettere di sprecare risorse alimentari in questo momento scusare questo è quello sono le immagini quando è stato colpito il silos e mi rendo conto che diciamo il quesito non è facile perché perché colpire berrate alimentari allora il silos è stato colpito per l'esattezza due giorni fa e ha creato dei grandissimi problemi qui a arzis perché di fatto ormai manca l'energia elettrica la domanda che hai fatto è la domanda che ci stiamo ponendo tutti sia chi segue il conflitto e quindi deve capire per tattica militare come mai venga colpito un silos ma soprattutto i cittadini di questa di questo villaggio che vivono appunto con il lavoro che c'è in queste fabbriche la risposta univoca chiaramente non c'è perché è difficile capire come mai è stato colpito ci sono delle teorie delle teorie che hanno loro e delle teorie che possiamo fare anche noi chiaramente colpire un silos e colpire questa parte di ucraina che è molto vicino all'europa come vi dicevo da dove parte il grano il mais i semi di girasole significa dare un messaggio un messaggio a tutti significa dire volendo possiamo mettere in ginocchio forse anche un messaggio diplomatico chissà per collegarci alla discussione che stavamo facendo esatto cioè ricordo che possiamo ricordo che questo grano questo mais non solo va in europa ma va anche in africa noi abbiamo sentito i manager di questa azienda e ci hanno spiegato che potremmo essere a grossissima difficoltà qualora continuassero ad essere chiusi porti qualora appunto si smettesse cessasse ogni tipo di esportazione noi l'africa in particolar modo l'egitto e l'africa e israele